. Hai a disposizione un nuovo editor specifico per definire i telai con maggiore precisione. Ora puoi scegliere la disposizione del ponteggio, nella stampa del Pimus. Disponi di una nuova toolbaro per il disegno. . Hai nuovi elementi grafici che ti permettono di disegnare direttamente sulla planimetria. Dal disegno ottieni in automatico la verifica del tirante d'aria. . E la stampa della relazione. . Definisci una partenza allargata con una nuova funzione specifica. . Ora puoi inserire la mensola con tutti i dettagli. . E di rinforzi basette, con una nuova specifica funzione. . Hai nuovi elementi per personalizzare in modo più dettagliato il ponteggio. . . Puoi posizionare gli ancoraggi, in maniera ancora più flessibile. . 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